benvenuti da mag 21 nella presentazione del nuovo corso dedicato ad rendering in 3ds max 2017 questo nuovo motore di rendere è stato integrato di cui vediamo alcuni materiali realistici presenti all'interno della viewport nel corso come sempre avremo tutta una serie di file vedremo come si convertono le scene presenti direttamente con un tool di conversione denominato converter convertiremo questa scena all'interno del nuovo motore di render nuovo motore di render ha al suo interno tutta una serie di nuovi controlli che sono questi controlli che noi studieremo insieme quindi tutti questi parametri parametri di filtri parametri avanzati ed inoltre quelli che sono i parametri del render element all'interno del corso studieremo anche come si imposta il controllo di esposizione infatti questo tipo di controllo di esposizione un controllo diverso da quello del mentale fotografia esposo scontro vedremo inoltre che cosa significa utilizzare un fisica al sun fisica al sun è un sistema nuovo che si chiama sun positioners che è stato introdotto che vediamo rappresentato all'interno di questa viewport ed è questo sun positioner si aggancia ora ad una nuova mappa che è simile a quella mappa che conoscemo in mental ray che si chiama mental ray physical sky però qua si chiama physical sun and sky environment e la studieremo direttamente all'interno di quello che lo slate materials infatti all'interno dello slate materials noi utilizzeremo questo tipo di mappa e vedremo come impostarla all'interno del corso faremo anche una trattazione e come anticipazione di quelli che sono i materiali che sono stati inseriti infatti i materiali che noi utilizzeremo sono i physical materials vedremo delle impostazioni velocemente in questa fase del corso parleremo più del rendering meno del materiale ma avremo anche delle scene complete vedremo anche come si tratta quella che l'illuminazione bl infatti all'interno di questo corso io ho introdotto diverse situazioni di illuminazione bl che sono utili nel qual caso noi vogliamo illuminare la scena non con il sun ma con delle mappe e g di aree in questo caso sarà sufficiente lanciare il render e osservare quando render viene compilato come è possibile fare ad esempio cadere le ombre direttamente su questi tipi di sfondi quindi gli sfondi che si preoccupano anche della illuminazione questa è una ma è una classica mappa hdr il vantaggio di questo tipo di render è che è un render che lavora direttamente con la cpu non è un render che lavora con le gpu quindi più la gpu e la cpu è veloce e più il render in questo caso sarà un render veloce in tutti gli esempi che noi faremo ho utilizzato un processore non recentissimo quindi vedrete che è comunque un motore di render veloce quindi alla portata di tutti anche perché integrato all'interno della nuova versione di 3ds max quello che vediamo compilarsi in questo momento è un render che noi faremo insieme e con l'aggiunta già di materiali bene o male quasi di default materiali fisici che loro hanno inserito in questo motore di render adesso vediamo insieme qualche immagine infatti come sempre ci saranno tutti i file di esercizio e tutta una serie di immagini per quanto riguarda appunto la qualità i filtri diametri point light e così via qui ad esempio andremo a studiare come si impostano le luci fotometriche e che cosa significa andare a modificare una luce fotometrica vedete che va a modificare quello che è l'aspetto dell'impatto di illuminazione sul materiale vedremo ad esempio che cosa significa utilizzare la ibl di bl faremo un tipo di render prima con un plane e applicato un materiale fisico di tipo calcestruzzo poi vedremo come che tipi di cedere se utilizzare per acquisire le ombre oppure un tipo di integrazione fotografica diversa in questo caso abbiamo un background con una foto quadrata e poi l'immagine e gdr che va ad illuminare proprio la scena vedremo i render element i render element ci danno la possibilità di fare dei render molto veloci e di modificare la qualità del render senza dover rifare il render in questo caso e poi una cosa molto importante vedremo il sun positioner è interessante perché mi dà la possibilità di avere illuminazioni completamente diverse e abbiamo anche la possibilità di modificare determinate possibilità multiple però questo chiaramente lo vedremo all'interno del corso bene quindi io vi aspetto questa è una rapida rappresentazione per il primo corso di art render in 3ds max 2017